e benedizione affinché riconciliati con te e con la loro generazione possano godere della pienezza della luce e della pace del tuo regno padre nel nome di Gesù e per intercessione di Maria nella potenza dello spirito santo ti chiedo di spezzare ogni legamo occulto mediamico, telepatico, magico, di maleficio e di maledizione che possa sussistere fra me e loro il sangue prezioso di Gesù venga a creare una barriera di protezione spirituale che mi permetta di non essere più soggetto ad alcuna influenza malefica lo spirito santo riempie il mio cuore e la mia mente mettendomi così in condizione di vivere nella vera libertà dei tuoi figli nell'obbedienza della tua legge nella frequentazione dei sacramenti nell'ascolto quotidiano della tua parola nell'amore verso il prossimo solo allora sarò veramente libero di vivere perché capace di amare Amen ecco quindi una preghiera anche per tutti mi è venuto in mente i bambini che non vengono battezzati perché mi ritorna in mente questa